E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Ecco gli allenatori che nel mese di ottobre hanno raggiunto i loro obiettivi, mantenendo in alto le loro squadre. A guidare l'undici del mese è Simone Inzaghi, mente e anima della squadra più in forma del momento, la Lazio. Record di punti, 28, e di gol, 31, dopo 11 giornate di campionato. Invincibile in trasferta, 6 vittorie su 6 fuori casa, questa Lazio è da Scudetto.